Ma chi è che piange? Eh amore è arrivato questo Eh sì ormai è nostra, è ora che nome le diamo Alice! Mamma, papà Aiuto! Ciao Dolci Unicorni! In questo video vi vogliamo mostrare una cosa assurda Praticamente Andrea ha continuato il mio sogno Ve lo ricordavo il mio sogno Adesso ve lo mostriamo Ma prima di mostrarvelo Mi raccomando se ancora non fare parte del team Dolci Unicorni Iscrivetevi al canale Tappate la campanellina per non perdervi i prossimi video E seguiteci su tutti i nostri social Mi raccomando Detto questo direi che è arrivato il momento di mostrarvi il sogno di Andrea Ed è veramente strano Assurdo Va bene amore È arrivato il momento di andare a letto Quindi buonanotte e sogni d'oro Buonanotte amore mio Vabbè che tanto i sogni non me li ricordo mai Ah buonanotte Allora questo qui Ok Perfetto E questa è fatta Finalmente posso rilassarmi nel divano Ah finalmente posso godermi un po' di meritata Ma cosa ci fa la bambola del sogno di Corinne Ma non è quella È la stessa Boh vabbè intanto la sposto Ti metto qui Ok Perfetto Perfetto Ah Fermo Ma non mi dire che è lei che parla L'hai capito solo ora? Oh no L'incubo di Corinne è tornata Vita vita La bambola è tornata È tornata Ma che vuol dire? Chi è la bambola? La canzone bambola? Che chi è che è tornata? Di che cosa stai parlando? Di che cosa stai parlando? Sto prendendo i piatti La bambola Quella del tuo sogno Quella strana Quella che parlava nel sogno Del tuo sogno? Ma per chi? Ma che cosa stai dicendo del mio sogno? Del tuo sogno? La bambola Forza Mostrami questa bambola E poi fammi finire qua di fare la cucina Dai dai Vieni vieni Muoviti Muoviti Devi vedere con i tuoi occhi E sentire con le tue orecchie Va bene Allora L'ho trovata qui Che stava per vedersi la tv Anche se era spenta La bambola? Sì Guarda E lei adesso parla Parla? Forza? Dai Parla Ma hai problemi? È successo qualcosa? Cioè Una bambola che parla? Ma non si è mai sentito dire A meno che Non ha il tastino Per parlare Fa un gue en gue Ogliel latte Ogliel le cose Ma no ti assicuro che parlava Senti Se mi devi fare perdere tempo Ci sei riuscito Io torno di lì E tu continua a vederti la partita Fai quello che vuoi Ma le giuro che parlava Sì Le cose sono sempre così Quando devo farti vedere una cosa Non funziona Eh mi spiace Ma tu quando devi parlare Non parli Perché parla? Allora Facciamo una cosa Io ti metto qua Buona buona Tu stai tranquilla E il papà Si guarda la tv Va bene? Ok Chi ha urlato? Ma Corinne ha bisogno di aiuto Ma 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 la bambola? Dov'è finita la bambola? Corinne mi sa che è in pericolo Ciripo Dove sei? Hai urlato tu? Cosa? Ma ho sentito provare Ma ti sembro una che urla Mentre mi sto sistemando Questa parrucca bellissima Come mi sta secondo te? Ma che stai facendo? Scusa Cosa fai? Mi sto sistemando la parrucca Guarda Ti piace? Io L'adoro Chi è che urlava? Scusa? Vabbè senti Lasciamo perdere Non fa niente Senti comunque Io voglio sbarazzarmi Di quella bambola Tra l'altro Ma scusa Di questa bambola? Ma che ci fai con la bambola? Ma sei la sparita? Eh Non lo so È come se Non lo so Mi ha fatto capire Che aveva bisogno di coccole E quindi Eccola Guarda che carina Ma è troppo carina Sì Carina Carina sicuramente no Maledetta Sì Ma quale maledetta? Questa piccola bambola L'avevamo anche chiamata Alice Ti ricordi qualcosa? Scusa Ora non vorrei dire Ma allora ti ricordi del vecchio sogno? Vecchio Nuovo sogno Senti La bambola non se ne va La bambola rimane qua E invece io questa bambola La farò sparire E mentre Corina è di là Ci penso io a questa bambola Tu Alice Vieni qua Adesso ti aiuto Ti farò sparire Per sempre Ti chiudo Così Olè Amore Amore allora cosa cuciniamo? Cosa stai facendo? Beh niente Gli ho detto di buttare la spazzatura E stavo giusto scendendo a buttare la spazzatura Ma non puoi buttare la mia bambola Ma sei impazzito? Ma sei impazzito? No Alice No Ma che voleva fare papà? Ma che hai? Ma sei strano eh Strano io Ma strano sarà lei Che parla con una voce stranissima Bruttissima E poi lei voleva giocare al nascondino Quindi si era nascosta Ah e dillo prima che stavate giocando al nascondino Pensavo che Cioè la stavi per buttare Va bene dai Allora giocate Tieni Tieni Sì sì Giochiamo Giochiamo Guarda adesso come giochiamo Tu e il papà Tra la leo Tra la la Allora ma come funzionava questa cosa che non mi ricordo Cipò puoi finire un attimo Non mi ricordo come si fa la lavatrice Ah stai lavando i panni Perfetto Hai preso tutto quello che c'era da lavare Io li vedo ancora lì Sì sì ho preso tutto Ho preso tutto Ma io ancora li vedo lì i panni Cosa stai lavando? Dai dai Dimmi come si fa la centrifuga Come si mette qua Dove devo girare Forza Il tempo stringe Dai dai Il tempo stringe Senti Fammi controllare un po' cosa stai facendo eh No 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 tranquilla tranquilla Tutto a posto Dimmi solo dove si gira la manopola E abbiamo fatto Senti Non c'è bisogno di guardare Non c'è bisogno Cos'è? Cos'è? La bambola La bambola La bambola Ma si sarà teletrasportata dentro la lavatrice Teletrasportata Alice dentro la lavatrice Che fa anche rima Ma lo vedi che lei sparisce e riappare in diversi punti della casa Ma sei tu che la metti lì? Ma no ma sarà sparita e ricomparsa dentro la lavatrice E certo E io che c'entro? Ma Andrea mi fa veramente preoccupare sei così carina sei così dolce come fa ad avere paura di te io non lo so E tu non hai paura di me? C'è bisogno di guardare la bambola Dobbiamo assolutamente liberarci di quella bambola Oh finalmente l'hai capito Ci penso io Ok e la bambola però dove sta? Dov'è? Dove l'hai lasciata? Nel corridoio a terra Ci penso io Vado subito Allora qua ci sono le tue ciabate Lascia stare le ciabate Vabbè queste poi le disinfettiamo dopo Non ti azzardare sai Eccola qua Alice stranamente non parla in questo momento Buttala Via Subito Va bene va bene la butto Se proprio insisti la butto Two hours later Ah finalmente me ne sono liberato Contenta? Ma scusa eri tu che risalmente te ne volevi liberare eh? Ah vero Ah e finalmente un po' di meritato riposo Ah e finalmente lo dico anch'io Quest'incubo potrebbe diventare un bellissimo sogno Avete visto cosa è successo? C'è una cosa assurda ma che sogni fai? E chi sarà alla porta? Io ho veramente paura e lo scoprirete nella prossima puntata Noi vi mandiamo un grandissimo bacio Super mega iper puccioso Li vogliamo bene Noi ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao unicorni Ciao Ma ci sogni strani Non lo so Io scappo per sicurezza Che è meglio Io non so se è più strano il mio o il tuo Ciao Ciao 3, 2, 1, via Yo 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 yo